Ben ritrovati cari amici, oggi parleremo di Nanolet, ovviamente come crearli. Per poterli creare avremo sicuramente bisogno di una stampante 3D, quindi dovremmo progettarli in CAD o con SketchUp o in alternativa potremmo comunque scaricarlo da qualche sito di stampante 3D, è già bello e pronto e quindi dovremmo solo stamparlo. Però per chi ha manualità e familiarità con strumenti come AutoCAD è molto semplice, quindi io invito a voi stessi a crearlo proprio da zero anche perché può risultare una cosa anche abbastanza divertente. I Nanolef non sono altro che, diciamo così, tipo delle plafoniere, non lo so il termine esatto e non sono altro appunto questi che vedete in figura, qui in alto, possono essere controllati attraverso una intelligenza artificiale come Alexa, quindi possiamo accenderli o spegnerli o addirittura fargli cambiare anche colore o mandare la loro accensione a suon di musica. Adesso comunque voglio mostrarvi tutto l'occorrente per poter far funzionare questi Nanolef. Ci serviranno anche dei moduli Wi-Fi o Bluetooth appunto per interfacciarsi con Alexa e quindi ricevere il comando di accensione o spegnimento oppure cambio di colore. Ma andiamo a guardare più nello specifico come questi Nanolef vengono realizzati e come verranno poi cablati. Vediamo subito cosa c'è dentro il nostro pacco appena arrivato. Qui andiamo subito ad aprire. Diciamo che questa è la parte più bella che si parla proprio della nostra Echo Dot di Amazon. Qui abbiamo il cavo di alimentazione quindi che lo alimentiamo da qui. Adesso ragazzi ci vediamo dopo per... insomma dovrò testarlo, dovrò vedere più o meno il suo funzionamento. E finalmente è arrivato il pacco che tanto attendevo. Adesso andiamo subito ad aprire e vediamo cosa c'era al suo interno. delle strisce LED fighissime. Adesso non ci immane che andare ad assemblare il tutto. Ragazzi siamo quasi arrivati alla fine della stampa di uno dei pezzi dei Nanolef. Siamo a 4 ore 54 con un 98%. Quindi siamo veramente agli sgoccioli, quindi tra qualche minuto dovrebbe finire la stampa. Per chi non lo sa i Nanolef sono appunto dei triangolini, ma possono assumere anche delle forme differenti, con all'interno dei LED, che qui ovviamente non ci sono, ma che comunque andremo a collegare e poi in un secondo momento anche a configurare con Alexa. Finalmente ho finito il cablaggio dei Nanolef. Adesso diamo uno sguardo più da vicino per capire come è avvenuto questo cablaggio. ecco qua, potete vedere da video che per collegare più piattaforme di Nanolef ho utilizzato delle viti, invece ho dovuto cambiare quello che è il progetto originale tagliando dei pezzettini di cornice del Nanolef per permettere appunto il passaggio della striscia LED. Ben ritrovati cari amici e come potete vedere fra le mani ho un modulo Wi-Fi. Questo modulo Wi-Fi ci permetterà di accendere attraverso Alexa i nostri Nanolef. Questo modulo per funzionare avrà sicuramente bisogno di due applicazioni scaricabili dal Play Store che ovviamente andranno configurate e faranno da tramite da Alexa al nostro modulo Wi-Fi. Queste due applicazioni sono Magic Home e l'altra applicazione è appunto l'applicazione di Alexa. Per capire meglio come configurare queste due applicazioni vi rimando a un link dove viene spiegato tutto nel dettaglio. Lo testiamo. Alexa accendi libreria. Fingata. Alexa accendi Nanolef. Sì.